bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono rj e oggi siamo tornati su super meatball per la mia gioia si si sto filmato lo saltiamo eh non sperare allora eravamo rimasti a livello 7 che non riuscivo proprio a farlo mi sembra che era questo vero no non era questo era era questo allora non riuscivo per niente a fare questo ragazzi perché è una roba non mi ricordo i tasti ragazzi ok adesso comincio a ricordarmi i tasti no non è vero non me li ricordo ok ok dai dai non è che mi farà via il gioco e che mi fa raviare che lei non sciatta questo mi fa raviare ok ok Bebe! Bebe! Oc, è un po' di più! E non so, l'acqua! Arrugio! Dì! Poi metti un cappellino ahí che posso! oltre almeno fa il culo era meglio che non me lo cobravo sto gioco fa il culo vai a fa il culo vai a fa il culo mi fai intanto è di sera a questo livello e noi siamo di giorno non ha motoseggio questa cosa per colpa di sto verme sembra che tutta la città stia stia avendo degli ostacoli di agaci tutta non dai ho premuto il shift io per andare più avanti nei salti dai no fa culo fa culo quella cosa di merda no no ma c'è fuori lì oh c'è fuori lì ok bene e adesso cosa devi fare ma vai a far culo ma vai a far culo no 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 Grazie a tutti. 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 Non è possibile, non è possibile. Ti fa perdere la vita a sto gioco. No, ma non è possibile. Ma va a fare... Ma va a fare... Ma va a fare... No, va a fare... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... Ma come si fa... Ma come si fa... Ma come si fa... No, no... 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 Grazie a tutti Grazie a tutti In cielo, Gio, non so se lo sai, non c'è niente! Come fai a morire? Quindi, come fai? Ma ragazzi, non ci riesco! Ma mettetemi un cavolo di checkpoint! Non come Dabdash che devi sempre iniziare da capo, sempre! Noi mettono i checkpoint in questi giochi! L'unico gioco che ci sui checkpoint è Showbendead! Gli altri è una merda! Basta! Raga, questo è secondo me l'episodio finale perché non ci sto riuscendo! Ma dai, va a quel dannato! Posse! Nooo! Ma io mi chiedo perché non aspetto! L'ho fatto! Non è possibile! Ma perché mi faccio prendere dal panico ogni volta che io ce l'ho fatta? Vaffanculo! Ma vaffanculo! Io prendo un shift! No, 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 no! Io non c'ho il joystick, vuoi capire il Gio? Quindi mi devi fare tutto! Ma no, 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 no! Ma no! Fa culo, fa culo sto gioco di merda Fa culo, fa culo No No Ma io l'avevo fatto Io basta Mi dio Ok Guardate dove è il finale fammi scelti più mi fai scelti più lunghi non è possibile ma poi l'ultimo livello come ragazzi ditemelo voi oh sei sbaglio di nuovo come prima no ho sbagliato in un'altra maniera stupida o mai guardate la delle spine che non sa dai io ce la faccio cucco come nooo ditemi che cosa faccia l'occhi chiusi no va il culo ecco cosa faccio cosa non senti allora mi poi c'è veramente uno piccoglioni però allora ci sto mettendo ci sto mettendo 26 minuti per fare questo che è una cagata ok se sbaglio come prima io giuro me ne vado ok 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 ma basta raga sono qua da un'ora e ti vedo quant'è ma veramente 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 ho sbagliato come prima prima ho sbagliato come cioè ho sbagliato ho fatto giusto ragazzi ho dovuto saltare quella piattaforma là ma perché lui mi ha detto che era sbagliato oh nooo Oh